Aiutare più concretamente le famiglie in difficoltà cercando di calibrare con maggiore puntualità dell'attuale ISE, l'indicatore della situazione economica equivalente, il reddito, le caratteristiche del nucleo familiare e le esigenze concrete. Stiamo parlando di fattore famiglia, il progetto sperimentale condotto dal Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona e adottato dal Comune di Castelnuovo del Garda. Questo sostanzialmente si basa come punto di partenza dalla dichiarazione ISE che contiene tutta una serie di informazioni riguardo il nucleo familiare, la sua ricchezza in termini di reddito e la sua ricchezza in termini di capitale. Dopodiché noi andiamo col fattore famiglia ad aggiustarlo in quanto ha parecchie manchevolezze, nel senso che non tiene correttamente conto del carico familiare in termini numerici, cui per noi dovrebbe tenere in maggiore considerazione il numero dei componenti, ma non solo quello, anche il tipo di componenti, perché avere in casa un disabile oppure no fa una grandissima differenza. Con questo strumento si va quindi ad aggiustare il sistema ISE e avere una maggiore garanzia che quello che la famiglia chiede è effettivamente dovuto oppure non lo è. Fattore famiglia che oltre a Castelnuovo coinvolge anche i comuni di Zevio, Nogarole Rocca, Salizzole e Gazzoveronese partirà ufficialmente con la prossima stagione scolastica. Si inizierà con la retta mensile delle scuole e successivamente sarà esteso ad altri servizi come la retta dell'asilo nido ed il trasporto. Per fine maggio le famiglie sapranno a quanto ammonta il loro sconto. L'iniziativa che vuole spalmare le risorse in maniera più equa possibile sulle famiglie che accedono ai servizi. Questo è fondamentalmente il sistema fattore famiglia. L'attuale ISE questo non lo fa. L'attuale ISE presenta delle grosse lacune, è uno strumento mai vecchio, datato. Lo stesso governo ha riconosciuto che bisogna rivederlo perché vuol dire che qualcosa non va. Noi proponiamo un modello che risulta che è nato dagli studi fatti dal professor Perali nell'Università di Verona. L'abbiamo elaborato come associazione di famiglie e l'abbiamo proposto, presentato ancora alla conferenza della famiglia del 2010 con grandissimo rilievo su tutta la stampa nazionale, da sole 24 ore, corriere, tutte le grosse attestate, è andato grosso rilievo a questo. È stato approvato il fattore famiglia anche nell'osservatorio nazionale per la famiglia del governo e poi è stato dimenticato da Dio e dagli uomini.